Dottor Sanfilippo, a conferma di quanto dicevamo nei giorni scorsi sulla legalità e sull'attenzione nel territorio, dobbiamo dire che questo caso che si è chiuso, si è chiuso proprio per l'indagine portata avanti dalla Polizia di Stato? Sì, sono particolarmente soddisfatto di questa operazione perché il disegno che avevamo previsto per questa questura con questo tipo di indagine, questo tipo di intervento si è verificato esattamente come lo avevo pensato, cioè un primo intervento delle volanti che con grande professionalità hanno cristallizzato la zona e quindi acquisito le prime informazioni e poi l'intervento naturalmente del servizio di Polizia Giudiziaria della squadra mobile che ha continuato le indagini finché l'autorità giudiziaria, accogliendo quelle che sono state le risultanze e delle investigative della squadra mobile, ha emesso i provvedimenti che abbiamo eseguito questa notte. Devo dire che sono molto soddisfatto anche della tempestività del risultato perché nel giro di neanche un mese sostanzialmente tra il primo intervento e l'emissione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ripeto, è passato meno di un mese. Quindi il sistema di intervento, di legalità e di giustizia qui a Crotone in questo caso ha funzionato molto bene. Dobbiamo dire che c'è stata un'attività investigativa veramente eccellente e soprattutto molto certosina e questo poi correlato con l'attività, come lei diceva, della magistratura, permette chiaramente di inquadrare i casi e di non rimanere sempre in cerca di chi ha commesso quel famoso reato. Certo, nessuno di noi è un'isola a sé stante e il sistema deve integrarsi e deve interagire nei modi in cui il codice di procedura penale prevede. Questo è proprio un caso sintomatico di perfetta sinergia tra polizia giudiziaria e autorità giudiziaria.